Il mio proposito, nel condividere con voi questa conoscenza della verità dell'essere in queste lettere, è mettervi in grado di crescere in amore e saggezza spirituale, e produrre i frutti e le benedizioni di tale amore e saggezza spirituale, in ogni momento della vostra coscienza che si evolve. Io desidero che voi siate abbondantemente gioiosi. Perciò, buttiamoci insieme a capofitto nel terreno umano della vostra coscienza, rivoltiamolo, liberiamoci dei sassi della disperazione, con una saggezza sempre più profonda, frantumiamo le solle della non comprensione, col mio aiuto estirpiamo le erbacce dei vostri schemi mentali e emozionali negativi, con una fede sempre crescente, fertilizziamo il terreno della vostra coscienza. Poi seminiamo dei semi sempre più belli, nati dalle vostre percezioni spirituali in evoluzione e dall'amore incondizionato. La mia gioia sarà la vostra gioia in questa impresa, e la vostra gioia sarà aggiunta la mia gioia. In questa unità di scopo e di conseguimento, alla fine sentirete che siete davvero del mio spirito e che il mio spirito viene riversato in voi. In questo modo sperimenteremo l'unità di ciò da cui entrambi abbiamo attinto la nostra individualità. I miei pensieri diventeranno i vostri pensieri incontaminati dalla vostra passata coscienza egoica. Ho descritto il processo, il sentiero, lungo il quale viaggerete per raggiungere i più sublimi e perfetti desideri del vostro cuore. E così vi dico che, sebbene possa essere inizialmente difficile d'accettare e occorra del tempo e uno sforzo perché sia compresa appieno, questa lettera è un legame forte tra la vostra coscienza e la mia. Nel mio stato trascendente, quando mi chiamate, posso fare per voi più di quanto potrei fare se dovessi ritornare sulla Terra, in un corpo fisico, dove potreste vedermi con i vostri occhi e sentirmi con le vostre orecchie, ma la vostra comprensione della verità dell'essere potrebbe essere limitata. In questa modalità di contatto con la vostra coscienza, potete ricevermi direttamente nella vostra mente e nel vostro cuore, quando sono stati realizzati i presupposti per un contatto del genere. Poiché, in verità, vi dico, quanto più tempo e meditazione dedicherete a queste lettere, tanto più di verrà possibile per voi ricevere ispirazione e istruzione superiore da me, personalmente, in quanto, con ogni lettura di queste lettere, tanto più verranno elevate le frequenze della vostra stessa coscienza verso le frequenze della mia coscienza spirituale, e alla fine saremo in grado di raggiungere un vero punto d'incontro nella coscienza. Allora, abbondanti saranno i frutti nella vostra vita. Per spiegarvi perché è così, devo dirvi che la mia coscienza discende attraverso molti diversi livelli di frequenze vibrazionali di coscienza per soddisfare le necessità di coloro i quali cercano aiuto e ispirazione. I molti diversi livelli di coscienza attraverso cui la mia coscienza passa, sono tutti distinti gli uni dagli altri. Ogni livello di frequenze di coscienza crea e si manifesta come diverse condizioni d'esistenza, poiché le più alte e più basse frequenze vibrazionali di coscienza sono prodotte dagli schemi spirituali mentali e emozionali o dalle forme di coscienza più elevati o più bassi. Con gli schemi elevati e bassi intendo quelli che sono più vicini o più distanti dall'intento della coscienza divina. Come sapete, ogni frequenza di vibrazione delle onde sonore produce una sua nota e un suo tono unico e individuale. Similmente, le forme di pensiero mentali e emozionali abituali producono le loro frequenze vibrazionali nella coscienza e queste, a loro volta, producono le condizioni esterne in cui quella coscienza risiede. Più sono elevate le frequenze di vibrazione della coscienza, più belle, armoniose, gioiose e realizzate sono le vite di coloro i quali risiedono in quelle frequenze. Quanto più basse le frequenze, tanto più dure, amare, aspre e miserabili sono le vite di coloro che sono in risonanza con tali frequenze. Le loro vite sono costellate di disastri, privazioni e brutalità. Quanto più elevata è la frequenza di vibrazione della coscienza, tanto più spiritualmente amorevoli e belli sono i pensieri, l'immaginazione creativa, gli ideali e la bellezza dei colori e delle forme di vita, poiché si stanno elevando, avvicinandosi sempre di più alla dimensione della coscienza universale, dove le frequenze sono diventate talmente intensificate da stabilizzarsi ed entrare in un potente equilibrio, l'onipotenza della coscienza universale, la sorgente di ogni esistenza, amore. A voi può sembrare che le condizioni esterne siano quelle in cui risiede il corpo, ma la verità è che è la coscienza che dimora all'interno, che fa esperienza e risponde alle condizioni esterne. Il corpo non è altro che un veicolo che rende la coscienza umana visibile agli altri, e la condizione del veicolo stesso è una manifestazione del livello della coscienza spirituale e mentale e emozionale che i vi dimora. Pertanto, come ho detto prima, come osservatore delle necessità individuali e in risposta alle richieste di aiuto, la mia coscienza discende attraverso i vari livelli di coscienza esistenziale per raggiungere il supplicante e sincero, poiché, per dare delle risposte, io devo prima ricevere l'esigenza. E, come ho detto all'inizio, queste lettere sono un legame, un mezzo di comunicazione tra voi e la mia coscienza che vi permette di essere spiritualmente attratti e resi ricettivi verso e poi comprendere profondamente e usare tutta la conoscenza che desidero condividere con voi per portarli in alto sulla scala della coscienza spirituale, fino alle sue vette finali della coscienza cristica. Dato che io stesso sono vicino all'equilibrio perfetto, ho il potere spirituale della coscienza universale in una misura quasi perfetta. Io sono permeato dalla natura della coscienza universale. Pertanto la mia coscienza intera, indipendentemente dai pensieri dalle parole, dalla fede o dalla mancanza di fede, dall'amore o dall'odio, dall'accettazione o dal rifiuto di me da parte delle persone, rimane quella di puro amore incondizionato. Non vacilla e non cambia mai. I miei atteggiamenti sono costantemente quelli di puro amore, sollecitudine e compassione, che vivo come un profondo desiderio di elevare, guarire e far prosperare. Pertanto, è perfettamente possibile che alcune persone, se sufficientemente sensibili alle frequenze vibrazionali di coscienza, diventino consapevoli della mia presenza, o dell'amore, o della forza vitale extra, quando si trovano in uno stato di ardente desiderio conscio, ricerca, preghiera per conoscermi meglio, o evolvere spiritualmente. Mentre parlo delle frequenze più basse di coscienza, che causano problemi sulla Terra, sarete consapevoli della mia totalmente compassionevole accettazione di esse, giacché queste altro non sono che una manifestazione delle dolorose lotte e sofferenze degli uomini, mentre tentano di trovare la loro strada verso la luce della propria sorgente dell'essere. Io vengo agli uomini, non per condannare, bensì per elevarli e per dare loro forza. Io irradio la mia coscienza cristica verso di voi, ricevendo e mantenendo il vostro nome e la vostra forma spirituale nella mia mente, quando chiedete il mio aiuto. E a seconda della vostra ricettività e libertà dagli impulsi magnetici di adesione e rifiuto, un po' della natura divina dell'essere viene assorbita dalle vostre attuali frequenze vibrazionali di coscienza, che poi sperimentano una forte sensazione di elevazione. Perciò dovrebbe esservi chiaro che, quando svuotate la vostra coscienza terrena della sua schiavitù emozionale, respingendo mentalmente e emotivamente gli schemi di pensiero emozionale che percepite come non in armonia con l'amore divino, diventerete sempre più consapevoli di una più elevata ispirazione che invade la vostra mente, anche il vostro plesso solare, guidandovi nei momenti del bisogno, quando siete incapaci di percepire il giusto corso d'azione o incapaci di purificarvi dai pensieri egoici emotivi nel reagire a situazioni problematiche. Col mio aiuto, potrete vivere in due dimensioni, quella del mondo fisico in cui risiede il vostro corpo, che vi porta le vostre esperienze e quella del punto di vista più elevato della coscienza di Cristo che vi metterà in grado di trascendere il pensiero egoico e di irradiare nelle vostre situazioni dei pensieri e sentimenti da quello stato dell'essere che io chiamavo il regno dei cieli. Io non sono solo in questo lavoro. Ci sono innumerevoli anime elevatissime, trascendenti, spirituali, belle, amorevolmente intelligenti, aventi accesso alla dimensione della coscienza di Cristo che lavorano con me per aiutare gli uomini. Sebbene ci troviamo nella dimensione della coscienza cristica, siamo tutti degli individui. Non siamo repliche l'uno dell'altro. Noi tutti esprimiamo la coscienza di Cristo in modi differenti, gloriosi, ponendo l'enfasi delle nostre attività su diversi aspetti della creatività. Abbiamo un'immaginazione potente e siamo in grado di creare e dare forma individuale visibile nella nostra dimensione a quelle cose che sono ben al di là della vostra attuale comprensione. Sentirete che in tutto il mondo le persone stanno ricevendo ispirazione e sono consapevoli della presenza di Cristo. La mia ispirazione, irradiata nel mondo in questo momento, viene ricevuta da caratteri diversi e menti diverse. A causa del loro condizionamento mentale precedente, l'ispirazione condurrà ogni persona su un sentiero diverso. I messaggi, che sono in grado di inserire nella loro coscienza, avranno facce diverse. In alcuni casi, i messaggi saranno grossolanamente alterati dal ricevente, che è psichicamente ricettivo ma possiede una mente ortodossa che si aggrappa ai già battuti sentieri religiosi del passato. Ogni messaggio sarà interpretato secondo le credenze che sono dominanti. Qualunque messaggio ricevuto, che potrebbe contraddire le credenze accettate, sarà scacciato via in fretta dalla mente e la sua paternità sarà attribuita a Satana. Per questa ragione è stato possibile raggiungere solo la mente che è aperta e ansiosa di sentire la verità al posto degli insegnamenti tradizionali. Potete essere certi, tuttavia, che il mio messaggio personale sveglierà sempre le persone alla necessità urgente di allontanarsi dalle credenze limitanti ed erronee di ogni dogma e religione istituzionalizzata. Il messaggio aprirà dei canali di coscienza che conducono alla crescita della consapevolezza spirituale. Condurrà le persone a dimensioni sempre più elevate di pensiero celestiale al posto dei concetti terreni e materialistici. Impartirà un apprezzamento più intenso della vera natura della vostra sorgente dell'essere e dell'universo in cui vivete attualmente. Quando ero sulla terra, io profetizzai che sarebbe arrivato il tempo in cui sarei ritornato come lampi che attraversano il cielo da est a ovest. Questa fu una descrizione vivida del modo in cui sto attualmente lavorando. Forse, dopo il paragrafo precedente, accetterete che il fulmine ha colpito tutto il mondo in una forma tale da raggiungere coloro i quali stanno sperando con ansia che io ritorni. La mia verità è intesa ad elevare e illuminare le menti di coloro che stanno cercando di destare la gente alle molte cause della sofferenza e distruzione futura del pianeta. Innumerevoli anime antiche stanno operando altruisticamente in centinaia di modi diversi per alleviare la sofferenza delle persone bisognose, dedicando tutte le loro energie, tempo, posizione terrena, per promuovere l'amore per la natura, per gli animali, il loro benessere e la loro protezione, e per la salute futura del pianeta stesso. Anche se queste anime deliziose potrebbero non esserne consapevoli, nessuna di queste sollecitudini è nata dal pensiero umano terreno, diretto esclusivamente verso necessità egoistiche, ma è nata dalla dimensione della coscienza cristica, dove tutte le cose viventi sono viste come espressioni dell'amore e intelligenza della sorgente e di ogni esistenza. In questa lettera desidero spiegare chiaramente che io sono venuto, attraverso il mezzo di queste parole, ad aiutare le persone ricettive di qualunque strato sociale, dall'operaio al generale, dall'impiegato al presidente, ad operare interamente dal punto di vista dell'amore. interamente dal punto di vista dell'amore. interamente da domenica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.